Presidente Zaffiri ci sono novità importanti che riguardano il Conservatorio Luisa D'Annunzio ma anche altre istituzioni a cui fa capo la provincia di Pescara, tutto questo scaturito da una riunione che avete avuto a Roma? Certo, abbiamo chiesto un incontro per il tramite il Consiglio di Stato e la conferenza Stato-Città dove abbiamo raggiunto un accordo con il MIUR per quanto riguarda le spese di funzionamento del Conservatorio di Pescara. Questa riunione è servita innanzitutto per avere un dialogo con il MIUR diretto per poi definire e stabilire le spese di competenza del funzionamento che ammontano a quasi 95 mila euro l'anno ma abbiamo un taglio delle spese dalla parte dello Stato centrale e quindi non possiamo sopperire anche a cose che non competono a noi noi abbiamo detto al MIUR che daremo su una convenzione apposita l'edificio incomodato d'uso gratuito perché per noi è un'istituzione il Conservatorio di Pescara però le spese di funzionamento se le devono accollare loro e abbiamo raggiunto questo importantissimo traguardo in quanto abbiamo liberato sulle risorse del bilancio della provincia circa 95 mila euro. Parliamo però della provincia di Pescara noi abbiamo già una proiezione che per chiudere il bilancio del 2019 occorrono circa 4 milioni di euro. Dal proposito Presidente c'è stato un consiglio provinciale poco prima di Natale 21 dicembre 48 punti all'ordine del giorno di cosa si è parlato? Abbiamo riconosciuto la maggior parte dei punti era per riconoscimento di debito fuori bilancio per circa 581 mila euro di debiti fuori bilancio e poi lì abbiamo portato anche il rinnovo della convenzione a provincia ambiente dove abbiamo economizzato altri 110 mila euro per l'anno 2019.